E' dei giorni scorsi la notizia che le terme di Sciacca e anche quelle di Ecireale non hanno superato la seconda selezione di cassa depositi e presidi nell'ambito di una manifestazione di interesse che era stata pubblicata per la valorizzazione di immobili per finalità turistiche. Una vicenda che ci ha visti i protagonisti come città di Sciacca perché abbiamo immaginato che questa potesse essere finalmente la svolta per immaginare soprattutto un investimento che rimettesse in pista il patrimonio delle terme. Invece purtroppo la brutta notizia. L'amministrazione comunale di Sciacca non dispera, sostiene che ci possono essere ancora margini di manovra evidentemente con un'altra strada nei confronti di cassa depositi e presidi. Ma quello che emerge è che ancora una volta la vicenda termale, mancano poche settimane, è possibile dirlo, all'ottavo anniversario tristissimo della decisione della regione di chiudere tutti gli impianti, ci pone ancora una volta di fronte alla dura realtà. Questa settimana nella nostra trasmissione affronteremo questo tema anche con una retrospettiva naturalmente su tutto quello che è successo ma speriamo anche di poter dare qualche elemento significativo che possa indurci a pensare che prima o poi questa vicenda possa tornare ai, non dico ai fasti di un tempo, soprattutto per un problema che non è più possibile immaginare il termalismo soltanto dal punto di vista sanitario perché i tempi sono cambiati. Ma questo forse è ancora troppo prematuro per affrontare questo tipo di aspetto, bisogna veramente fare ancora tanti passi in avanti, anche se tutto questo avviene in un ambito in cui l'opinione pubblica s'accense non sembra molto appassionata, anzi è piuttosto rassegnata, è indolente, questo purtroppo va detto. Però parleremo anche di sociologia se possiamo metterla così nel corso della nostra trasmissione. Ringrazio gli ospiti che questa settimana hanno accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Ve li presento, il sindaco di Sciacca Fabio Termine che è la prima volta che viene a Vespera e lo ringraziamo anche per questo. Ringraziamo e salutiamo l'ex sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola, c'era lui in carica quando le terme sono state chiuse e tentò tutte le strade possibili e immaginabili perché quel pericolo venisse scongiurato non riuscendoci. Poi voglio salutare i rappresentanti dei due comitati civici che si sono costituiti recentemente negli anni scorsi ormai a Sciacca per tenere accesi i riflettori sulle terme. L'avvocata Caterina Sant'Angelo, presidente del comitato Ora Basta, e poi Franco Zammuto che è qui in rappresentanza del comitato civico patrimonio termale. Anche questo ha tentato di tenere accesi i riflettori, ribadisco, in un ambito nel quale la collettività sembra piuttosto distratta rispetto ad una situazione che rileva anche dal punto di vista delle potenzialità straordinarie che la città ha e che potrebbe avere ancora ulteriormente. Voglio partire con una considerazione che chiedo al sindaco Termine. Le ultime novità sono che l'amministrazione ha chiesto un incontro ai vertici di Cassa, Depositi e Prestiti, ma aveva annunciato anche che avrebbe chiesto un incontro con il presidente della regione e l'assessore all'economia Falcone. Quali sono le ultime notizie? L'amministrazione ha chiesto un incontro al presidente della regione e all'assessore a Ramo. Poi contestualmente succederà che in realtà ci incontreremo anche con i vertici di Cassa, Depositi e Prestiti, perché siamo stati ufficialmente invitati all'inaugurazione della sede a Palermo che ci sarà il 17 febbraio e quindi in quell'occasione tutti gli attori saranno praticamente presenti e quindi sarà anche il momento in cui ci si potrà confrontare, quindi non soltanto con l'organismo regionale ma anche con Cassa, Depositi e Prestiti. In quell'occasione vogliamo approfondire tutto quello che concerne lo sviluppo delle terme di Sciacca e quanto interesse c'è da parte di Cassa, Depositi e Prestiti per un eventuale investimento su questo patrimonio. Ma lei si aspettava che questo bando, questa scrematura tra le varie proposte, perché non c'erano soltanto le terme siciliane ovviamente, e ce n'erano tante altre, venisse alla fine bocciata questa proposta? Ma guarda, io penso che quando si partecipa ad una gara nessuno si aspetta di perdere, quindi sicuramente io partirei invece da un'altra considerazione, che il patrimonio termale credo che non sia mai stato valutato, nel senso che oggi nessuno può dire quanto vale il patrimonio termale dal punto di vista dell'indotto, dal punto di vista di tutto quello che concerne lo sviluppo termale. Quello che secondo me è successo, quindi posso sicuramente dire la mia rispetto a questo, è che si è partecipato ad un bando, che intanto questo è bene ricordarlo, è avvenuto solo grazie al fatto che l'amministrazione l'ha notificato alla Regione, perché fino a quel momento nessuno se n'era accorto ed era stato pubblicato già anche da qualche mese. Grazie a questo intervento si è potuto intraprendere questa strada, che ha già portato un risultato a mio avviso, che è quello di avere comunque fatto un check up rispetto a tutto quello che serviva, e quindi rispetto a tutto quello che potrebbe servire anche in futuro. Quindi si sono messe per così dire le carte a posto, dopodiché è chiaro che Cassa Depositi e Prestiti ha fatto le sue valutazioni. Quello che io credo è che Cassa Depositi e Prestiti ha valutato l'investimento che concerne non soltanto l'acquisto, ma anche poi la riqualificazione del patrimonio e probabilmente questa valutazione non andava nella stessa direzione di questo bando che prevedeva 150 milioni di euro per 12 beni, per 12 complessi o beni immobiliari. Quindi io credo che sia successo questo, se così è, possibilmente Cassa Depositi e Prestiti è ancora interessata in realtà a fare l'investimento, ma con un'altra misura, con un'altra finestra che dobbiamo chiaramente approfondire. Ma questo si scoprirà in maniera molto semplice nei prossimi giorni e chiaramente con la Regione ci si confronterà su questo e tanto altro, perché è chiaro che noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, le partite si giocano ma non sono mai le partite della vita. Io credo che è stato importante partecipare, non oso immaginare cosa sarebbe successo se poi post bando si fosse scoperto che la Regione non aveva presentato nessuna offerta. Invece la Regione ha partecipato anche grazie al fatto che il Comune ha avuto un ruolo importante in questo. si è intrapresa questa strada. Me lo faccio dire, trascinando anche le termine 10 reale, è stato il Vice Sindaco Fisco a sedersi dietro un computer in un ufficio della Regione a mettere nella documentazione anche le termine 10 reale. In una Regione deserta, perché eravamo in agosto, non c'erano dipendenti, non c'era niente. Quindi si sono fatti veramente i miracoli per partecipare a questo bando, che ricordiamo era una misura del PNRR gestita da Cassa Depositi e Prestiti. Da un fondo immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti. Esatto. E che quindi ha consentito tutto questo. Dico, da qui bisogna adesso ripartire. Intanto è stata un'occasione per, a livello documentale, mettere tutto quello che era a disposizione di tanti enti, perché qualcosa possibilmente l'aveva la Regione, qualcosa del Comune, qualcosa era ancora da produrre, è stata prodotta. Quindi si è fatto un po' un inventario. Posso chiedere una cosa un po' provocatoria? Non facciamo che il limite di questa operazione consiste nel fatto che noi pretendiamo, lo dico tra virgolette naturalmente, che il privato si intesti l'intero patrimonio. Qualcuno dice, forse se cominciassimo a pensare ad affidare i singoli beni, probabilmente le cose potrebbero avere una prospettiva migliore. Lei cosa pensa sul piano proprio dell'impressione? No, io non penso che sia questo il problema, anche perché Cassa Depositi e Prestiti poteva benissimo anche decidere di investire sullo stabilimento, sull'hotel, sul parco e sulle piscine, per esempio, che era un comprensorio con beni tutti funzionalmente collegati, poteva anche decidere di farlo e poi spettava alla Regione decidere se insieme chiaramente a tutti gli attori, compreso il Comune di Sciaccia... Lei avrebbe detto sì o no? Ma sicuramente era una cosa interessante da valutare. La fermo qui. Avvocato Di Paola, questa cosa a lei l'ha fatta stare molto male, lo sappiamo, gliene do pubblicamente atto, noi la seguimmo all'epoca quando lei andò a Palermo con una delegazione, peraltro, di lavoratori delle Terme che protestarono fuori da Palazzo d'Orlean. Intanto la sua impressione sull'esito di questo ultimo bando qual è? Un'impressione, diciamo, a pelle, così? La mia impressione, anche leggendo gli articoli di stampa, perché questo è quello che sono riuscito a comprendere a titolo di informativa, ma anche ascoltando adesso il Sindaco, è che verosimilmente Cassa Depositi e Prestiti abbia considerato la proposta Terme di Sciaccia e Terme di Acireale particolarmente onerosa sul piano finanziario rispetto al budget, quello che ha poco anzi detto il Sindaco. Secondo me questo va accertato. Mi scusi, come dire che dai 150 milioni totali la somma che sarebbe stata necessaria per mettere in gesto le Terme sarebbe stata troppo alta? Questo è quello che noi percepiamo sia dalla stampa, ma credo che nel riferirlo oggi il Sindaco abbia anche degli elementi più certi. Però, ripeto, tutto questo va acclarato con assoluta precisione, perché sulla base di questo che eventualmente si può ripartire, cioè capire se effettivamente Cassa Depositi e Prestiti ritiene l'investimento particolarmente oneroso, o se invece il budget di una eventuale seconda finestra può essere minore o superiore e quindi eventualmente adeguare l'investimento anche a questa possibilità. perché non credo che tutto si sia esaurito con questa misura che è stata messa a bando e che ha consentito la partecipazione delle varie proposte che sono state presentate, anche perché se non ho capito male è una SGR, quindi è una misura che è finanziata sia da fondi del PNRR, ma credo anche da altre sostanze finanziarie, anche provenienti da operatori del credito, operatori anche altri imprenditori, quindi la SGR è una società a gestione e risparmio che gestisce un fondo che può provenire anche da risorse finanziarie del privato. Ma lei cosa pensa del fatto che probabilmente se cominciassimo ad entrare nell'ottica di uno spezzettamento dei beni forse le cose potrebbero prendere una piega migliore? Guardi, io mi sono fatto un'opinione di questo genere e la rassegno con molta franchezza. Intanto il fatto che voi abbiate adesso precisato che senza il ruolo del Comune nella specie dell'assessore fisco probabilmente la proposta non sarebbe andata in porto, io lo considero un fatto grave, lo considero un fatto grave che testimonia quello che io ho sempre detto, cioè la superficialità e se mi consente anche, per certi versi, la incapacità della burocrazia e della dirigenza regionale da un lato a comprendere che cosa siano le termini sciacca, dall'altro a mettere mano concretamente con la dovuta capacità e con la conoscenza a fondo della questione, a mettere mano a quelle che sono state tutte le problematiche che nella storia di questa vicenda, per la verità molto triste, si sono succedute. Questo io lo considero un fatto estremamente grave, cioè ci è voluto un nostro assessore per poter mettere giù una manifestazione di interesse. E allora io cosa penso? Penso che da un lato, secondo me questa seconda fase che noi vogliamo portare avanti deve prendere atto, e io questo aspetto l'ho sempre ritenuto, che noi dobbiamo manifestare al governo regionale questo punto di vista, il governo regionale ne deve assolutamente prendere atto, perché se noi pensiamo, adesso soprattutto in virtù del fatto che ci sarà uno spoil system, quindi ci saranno nuovi soggetti e nuovi interlocutori, non solo sul piano politico, ma anche sul piano dirigenziale, allora se la regione pensa che una volta ogni tanto qualcuno debba mettere mano alla questione terme, senza invece volersi dedicare a questa questione che è vitale, non per sciacca e per acireale, ma è vitale per tutto lo sviluppo complessivo di un territorio ampio che va ben al di là dei confini regionali, se noi non facciamo capire alla regione siciliana, al profilo politico, al profilo dirigenziale, questo secondo me noi non ne verremo mai a capo. Sulla base di questo e chiudo, attenzione, quando all'inizio di questa incresciosa vicenda io cercavo di far capire all'allora presidente Crocetta e all'allora giunta regionale che la chiusura in quanto tale era un danno gravissimo, cioè una sciagura inestimabile, lo facevo anche perché cercavo di far comprendere che al tempo poteva essere necessario non lo spacchettamento, non è questo il punto, ma continuare a far funzionare quei beni che potevano continuare a funzionare. Se vi ricordate attraverso quel meccanismo dei minibandi che a un certo punto la regione ci fece comprendere che voleva percorrere, cosa che poi non accadde. Allora, poi però mi si disse no, perché questo può pregiudicare la valorizzazione a lungo termine, come se la valorizzazione a lungo termine potesse avvenire dall'oggi al domani. Oggi questo rischio lo corriamo ancora. Allora, vorrei che si approfittasse della finanziaria che in questo momento è in corso di approvazione alla regione siciliana. Perché la regione, nell'emore di quello che può accadere, ma si facesse carico di un minimo distanziamento finanziario per cercare, non dico di porre fine al degrado, ma di bloccare il degrado dei beni. Oltre a quella che Musumeci ha definito lettatura, diciamo così. Ben oltre, che i fanghi cementificati sono un danno incalcolato. Ma assolutamente. Allora, Avvocata Sant'Angelo, è nata la sua impressione su questa decisione di Cassa Depositi e Prestiti e il sindaco ci dice che non tutto è ancora perduto. Lei qual è la sua impressione? Ma io intanto mi sono molto meravigliata dagli esiti di questo bando. Anche perché Cassa Depositi e Prestiti era già stata interessata dalla regione e c'era già un colloquio con Cassa Depositi e Prestiti. Sappiamo benissimo, perché ce lo siamo detti diverse volte, che le problematiche delle termi erano legate a quello che era la questione catastale degli immobili e non un fatto esclusivamente di ammissibilità. Né io posso giustificare la vicenda che si vuole, come giustamente veniva detto prima, attribuire questa mancata assegnazione o inclusione delle termi di Sciacca all'ipotesi che l'investimento sarebbe stato eccessivo. Anche perché, se lei ricorda, e più volte ne abbiamo parlato, era già stato fatto da parte della nostra associazione, l'associazione Ora Basta, già un bando di evidenza pubblica confezionato in un certo modo, molto preciso. E allora si quantificò quanto avrebbe potuto costare un'eventuale riattivazione di quelle che sono innanzitutto le fonti primarie, che sono i condotti che adducono i fanghi alle terme, ripristinare il tutto e quant'altro era connesso. Non erano cifre essenziali, enormi, no, non c'erano. Quindi questa, come dire, giustificazione non l'accetto. Dico pure, guardandoci dietro, che mi si sta sembrando con le terme di Sciacca e anche con quelle 10 reali, un, come dire, un beautiful, appuntate. Una tela di Penelope? No, no, proprio una beautiful che significa appuntate che non finisce mai questa storia. Perché se, come dice proprio l'Avvocato di Paola, noi ponessimo attenzione al valore che hanno le terme di Sciacca, ma anche quelle 10 reali, perché io voglio ricordare che nel 2010 ci fu il gemellaggio a livello europeo delle due stazioni termali, Sciacca ed Acireale, tant'è che si propose il famoso referendum di intitolare Sciacca, città, termale, Acireale, città, termale. Non si fece. La grande occasione si perse allora. Ma viene anche fuori quello che dice l'Avvocato di Paola, che questa burocrazia regionale, a parte la politica, che quello è il problema più grave, non ha mai avuto consapevolezza dell'importanza di questo patrimonio termale. Io non credo. Perché se siamo costretti a chiedere all'assessore di fare la domanda di Acireale, addirittura, nemmeno quella di Sciacca. Sì, ma quella diciamo, allora, dobbiamo dare sempre onore al merito. Il fatto che ci fosse stato questo momento di attivazione, di avere scoperto all'ultimo momento che c'era questo bando, è un fatto meritorio di per sé. Ma occorre vedere nei tempi così limitati e ristretti che cosa si è riuscito a mettere là dentro. Perché i fatti pregressi, come li conosco io, li conosciamo quelli che abbiamo fatto la storia. Sappiamo che erano molto più complessi di quello che può essere rappresentato nell'arco. Quanto ci avete impiegato? 15 giorni? Forse. Non di più. Era molto difficile. Perché noi come associazione, allora anche il Comitato siamo stati ad interloquire all'assessorato. Abbiamo visto quali sono i problemi, sappiamo quali sono i problemi e non dimentichiamoci che ci fu quel famoso contratto tra la Regione ed il Comune di Sciacca che non ebbe mai esecuzione proprio perché intervennero fatti di natura urbanistica e catastale che impedirono lo svolgimento e comunque di rendere esecutivo quel progetto. Ma lei non ravvisa quello che ho chiesto già sia al Sindaco sia all'Avvocato di Paola che probabilmente se noi entrassimo in un'ottica di idee diverse quindi spacchettamento dei beni forse le cose io su questo mentre prima in qualche modo non ero d'accordo oggi lo condivido perché se noi dobbiamo un po' smontare questa ricerca altrimenti non si muove niente altrimenti rischiamo che non si muova mai niente per esempio io oggi ho già una riunione con il tavolo tecnico della nostra associazione e penso di poter contattare anche l'altra associazione Sciacca Terme Rinace per prevedere un piano B non lo decidiamo da soli questo abbiamo esperti del settore nel nostro tavolo tecnico perché iniziare per esempio a dire affidiamo il bar con il parco con la villa riattiamo un attimino rimettiamolo in movimento il grand hotel delle Terme magari per fare che so convegni riunioni conferenze e cose rimettere in funzione tutto ciò che è fattibile ad esempio io ancora mi chiedo ma come mai il parco delle Terme che doveva essere risistemato entro il 22 di dicembre perché c'è stato un finanziamento lo sappiamo ancora non si fa niente i lavori sono rimasti fermi allora ci vogliamo rendere conto che lei dice un punto di poco a poco se i singoli beni cominciamo a farli funzionare poi a cascata ci sono dei ritorni economici che consentirebbero lei dice l'hotel per convegni però il fatto che continuino ad aprire hotel a Sciacca ci rivela che evidentemente c'è un interesse sulla città anche a livello di posti letto quindi l'hotel potrebbe anche essere qual è l'interesse se noi non facciamo ripartire quella che noi abbiamo avuto un'estate la testimonianza di una signora che veniva da Padova la quale ci disse io sono stata in altri termini ma le Terme di Sciacca quando facevo qui i fanghi e le cure non le ho trovate più da nessuno riapritele queste Terme allora Zammuto poco fa mentre parto proprio dal fatto dello spacchettamento perché mentre ne parlavo vedevo che lei diceva di no con la testa quindi lei è convinto che sia sbagliato immaginare di poter partire attraverso una come si può dire un avviamento del singolo bene perché la pensa così? Perché anche diciamo i fatti ultimi che stanno per accadere e di cui conosciamo diciamo abbastanza tenuto conto che Cassa Depositi e Prestiti viene qui per insediarsi a Palermo quindi c'è un interesse di Cassa Depositi e Prestiti a venire in Sicilia per fare in modo che anche la Sicilia possa provare ad avere dei finanziamenti il fatto che sia stata respinta la domanda oggi appare molto logico appare logico perché tutto il patrimonio inserito per intero non dava la possibilità di parlare dei 150 milioni che erano disponibili per 12 interventi su città e su attività diciamo economico produttive quindi questo fatto che vengono è che addirittura due ore prima da quella che è l'inaugurazione della Cassa Depositi e Prestiti a Palermo incontrano Fontana con Schifani per fortuna ci sarà anche l'amministrazione di Sciacca che potrà diciamo assistere a questo incontro questo denota un interesse che sicuramente per quanto era assolutamente veramente impossibile discutere perché le cifre ci sono che il patrimonio non abbia diciamo un quid di valore non avrà più i 16 milioni di cui si trattava quando si faceva il bilancio però sicuramente diciamo a 10 milioni anche più ci sta e Cassa Depositi e Prestiti non prende una parte del patrimonio Cassa Depositi e Prestiti con le RGS come si chiama? SSGR RGS SSGR società di gestione a risparmio hanno interesse ad acquistare la proprietà delle termine e perché lei non è convinto che se noi gli diciamo fate ripartire lo stabilimento fate ripartire l'hotel poi le altre cose poco a poco le facciamo ripartire perché lei è convinto che questo sia sbagliato? Allora l'interesse è stato suscitato la breccia è stata fatta la documentazione è stata prodotta e dichiarata adeguata è fatto le cose catastali Caterina io ho lavorato 40 anni all'agenzia delle entrate erano preteste della regione dei dirigenti della regione e di tant'altro erano ridicolaggine oggi hanno detto che è idonea la documentazione consentimi di sentire aspetta Caterina mi scuso voglio aggiungere che la regione pretendeva l'accatastamento essendo proprietaria però dei beni sì però quella è un'altra ricerca facciamo fare una parentesi all'avvocato non vorrei completare però sì 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 facciamo fare la precisazione un attimo parentesi apre e chiude no la precisazione è una che non è vero che è tutto a posto perché per questioni professionali che mi hanno interessato solo la casetta c'è interessata no 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 assolutamente no assolutamente no ci sono diverse come dire unità immobiliari che si trovano commiste con proprietà private della casetta di ricerca non è solo quella parte che noi conosciamo ma è stata accolta la domanda da parte di casse depositi plastici è stata ritenuta idonea se viene ritenuta idonea loro hanno accettato di poterla inserire per poter discutere ma che il primo step era quello facciamo completare Zamuto per il secondo io gli torniamo questa è stata una prima valutazione ora io senza volermi sconoscere se mi permetti l'operato ma mi sarebbe piaciuto sapere la documentazione trasmessa perché è così noi parliamo no no noi parliamo ma sul casse deposito e prestiti è la forma punto stiamo dilungando su un aspetto tecnico che credo capiate soltanto scusate avete interrotto voi io avrei voluto continuare come l'ho fatto tutti prego prego quindi diciamo questo fatto obiettivo e cioè che casse deposito e prestiti viene che casse deposito e prestiti non può accogliere un patrimonio che è acquistato e anche ristrutturato siamo queste cifre non vengono da me non sono certe ma sono sicuramente molto diciamo in sintonia con il ragionamento si parla di 70 milioni ora destinare 70 milioni a quello di Sciacca considerando che a Sireale ne potrebbe avere necessità tale significa che i 150 milioni sono già destinati per cui l'altra ipotesi che può nascere partendo da venerdì ma che va sostenuta perché il buon Messina una cosa diceva c'è una cosa da fare se non c'è un sostegno e il sostegno è il territorio io sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto Fabrizio salvo che non potrei anche dire quello è il mio arrangionamento passiamo avanti salvo sul fatto dello spezzettamento salvo il fatto di quello che si proponeva a Palermo ma al tempo mi scusi probabilmente scusami Franco probabilmente Cassa Deposito e Presidi dice non possiamo noi caricarci questo progetto perché quello che possiamo destinare in termini di risorse finanziarie alla risuruzione delle termine rischia di essere talmente insufficiente da non concludere niente ma stiamo ripartendo non sappiamo cosa poi investirà perché l'altro asse sul quale si ragionerà l'altra diciamo proposte che verranno da qui a due mesi a tre mesi perché insomma l'insediamento arriva ora e poi si capirà non sappiamo di che entità è può essere anche di una entità che riesce non dico per gli interi 70 milioni anche perché con chi ho parlato mi ha escluso che l'albergo di San Chiarogero sarà mai inserito anzi cioè si parla addirittura che prima o poi probabilmente sarà pure demolito eventualmente quale dei due il grande ah il grande quello che si affaccia sul costone sul piccolo invece si può inserire benissimo per cui tutto questo è una una strategia in itinere che va intanto sostenuta che per fortuna diciamo è stato fatto attraverso la grande attività e l'opera che ha saputo fare Fisco accompagnato chiaramente da tanti però è stata opera tutta di Fisco oggi dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità quindi ancora con cassa depositi e prestiti sì perché la regione ho sentito parlare qua ipotesi regione eccetera eccetera con Fabrizio e anche con Caterina in tante occasioni siamo stati a Palermo io è dal 2014 che seguo tutte le vicende anche a Palermo non c'è speranza non hanno la minima idea di cosa vuol dire sviluppo parlare di economia parlare di lavoro parlare di quello che serve per quanto riguarda le terme di Sciacca le terme di Cera non capiscono che questo può essere la nostra ricchezza che un territorio intero ci guadagnerà perché Santa Margherita Montevago potranno decollare da sole con piccole diciamo interventi che fanno ma se non decolla il territorio con le terme di Sciacca per esempio l'attività facevi cerno all'imprenditore che ha saputo portare avanti dopo dieci anni di attività burocratica che gli ha impedito di realizzare l'albergo che oggi fino a oggi è stato oggi è stato finalmente inaugurato è stato l'attività di un imprenditore impegnato di un imprenditore che ci credeva la regione di tutto questo impegno non ne capisce niente fermo un attimo qui sindaco intanto una parentesi i lavori al parco delle terme cosa è successo si sono fermati hanno avuto qualche piccolo intoppo burocratico ma adesso hanno riallacciato sono il finanziamento del ministero del bene e cultura assolutamente allora facciamo il punto della situazione ho capito che dobbiamo continuare a confidare in cassa deposito e spese perché se dobbiamo pensare di confidare nella regione siciliana ci possiamo togliere mano io penso che intanto dobbiamo iniziare a confidare in noi stessi che è la prima cosa perché questa città purtroppo è abituata a vivere di facili entusiasmi e di facili delusioni secondo me servirebbe un po' di equilibrio l'equilibrio comporta che si è intrapresa una strada va portata avanti ma non significa che se si è interrotta la strada per 10 metri noi ci fermiamo e non andiamo più avanti io penso invece che abbia colto tantissimo nel segno Franco Zambuto che condivido praticamente tutto il ragionamento nel senso che sono pure io convinto che sia stata fatta una valutazione e quella valutazione comportava le conseguenze che ha detto Franco Zambuto ci volevano troppi soldi assolutamente ma questo non significa che non ci debba essere interesse siccome la forma è sostanza lei attribuisce qualche significato al fatto che Casa Deposita e Prestiti abbia invitato il sindaco di Sciacca all'inaugurazione ma questo non lo so sicuramente è un fatto istituzionale che ci sta presumo siano stati invitati anche altri attori istituzionali però non gli dà grossa importanza è stato un merito dell'amministrazione inseris potrebbe potrebbe starci potrebbe starci però dico io penso che la partita sia ancora tutta da giocare sia ancora tutta da giocare e confermo quello che ha detto Franco Zambuto che il bando che si è appena concluso per noi purtroppo prevedeva tante fasi una di queste fasi era appunto la verifica dei requisiti oggettivi per poter poi andare avanti e quella fase noi l'abbiamo superata perché evidentemente e questo ci tengo anche a dirlo in questi anni dove c'è stata tanta disillusione ci sono state anche amministrazioni che ognuno per la propria parte qualche cosa l'hanno pure portato avanti nonostante tutti i contrasti con la burocrazia come ben diceva Fabrizio Di Paola quindi io credo che noi abbiamo avuto sicuramente il merito di inserirci bene in questa vicenda ma io questo lo voglio dire abbiamo anche avuto la fortuna di saper trovare le carte giuste che erano state prodotte però dagli altri ci sono stati amministratori che una parte l'aveva anche prodotta l'amministrazione precedente una parte l'amministrazione precedente ancora quindi c'è stato chiaramente una sinergia che poi si è venuta a e cosa pensa di quello che suggeriva l'avvocato Di Paola dice qua dobbiamo vedere se questo governo della regione al di là del fatto che noi continuiamo a confidare in case depositi e presidi faccia qualcosa intervenga per rimettere in sesto un po' gli impianti lei pensa che sia una cosa fattibile Zamuto non ci crede lei cosa pensa sicuramente è illogico il fatto che si sia proprietario di un patrimonio e non se ne curi questo è un dato di fatto che sta nelle cose lo vediamo dico a sciacca quando il cittadino giustamente dice ma questa è una cosa nostra e l'amministrazione di turno non se ne prende cura là è un'amministrazione regionale ma le stesse dinamiche ci sono quindi è chiaro che se tu sei proprietario di un immobile non te ne puoi dimenticare per anni la regione se ne è dimenticata rispetto a questo io per esempio visto che ne ha parlato Fabrizio Di Pala io per esempio ero uno tra quelli che ero contrario ai mini bandi oggi con senno di poi dico che forse sarebbe stato meglio intraprenderla quella strada perché oggi avremmo un patrimonio vivo che non avrebbe bisogno di tutti questi investimenti perché io credo che buona parte delle risorse che servono per questo investimento stanno proprio nella riqualificazione ed è il motivo per cui tantissimi non hanno partecipato ai bandi perché uno può essere interessato alla gestione ma non è interessato alla riqualificazione perché non ha la competenza per farlo ma lei quando incontrerà il presidente Schifani e l'assessore Falcone cosa chiederà a loro sostegno politico nell'ottica di un nuovo magari bando di casse depositi o altre soluzioni ovvero potrà chiedere anche qualche intervento per cercare di rimediare alla cementificazione dei fagni per esempio faccio questo esempio entrambe le cose io intanto credo che bisogna far capire a chi probabilmente non ha vissuto il passato perché è vero che c'è un governo che è in continuità con quello del passato però le persone sono diverse e quindi a me piace sempre approcciarmi alle cose con uno scenario diverso perché oggi il governo Schifani non è il governo musumeci e mi auguro che sulle terme il governo Schifani apra una strada diversa che dipende però da noi anche perché fare assumere una consapevolezza di quello che si ha dipende anche dal nostro territorio Avvocato Di Paolo no rispetto a quello che finora si è detto volevo aggiungere vorrei ricordare proprio questa mattina in funzione della trasmissione di oggi ho rivisto un po' il carteggio del tempo la cosa non mi è stata particolarmente gradevole però voglio ricordare due fatti il primo è che io ricevetti come l'ha ricevuta la regione la proposta di Serroccoforte di occuparsi e di prendere in gestione le terme di Schiac e la regione siciliana tutto il complesso tutto il complesso e la regione siciliana rispose no in questo momento noi non possiamo far nulla perché in preparazione è un bando ad evidenza pubblica poi sappiamo che cosa è successo voglio ricordare che io feci visionare il grandotel delle terme e lo stabilimento a un imprenditore che a Schiac ha investito che allora era il presidente Mangia che mi diete disponibilità a rilevare il grandotel delle terme l'aspe diete disponibilità a rilevare lo stabilimento tutto questo fu bloccato da una serie di problemi di natura burocratica insuperabili tra questi per esempio uno che invece io riuscì a superare che era l'allaccio fognario dello stabilimento e del grandotel al PARF Saccense che è avvenuto proprio in quell'occasione quindi voglio ricordare peraltro che allora si fece anche una relazione tecnica che fu redatta da uffici del comune di Sciacca in cui si proponeva la possibilità proprio di quello che si diceva fino a questo momento cioè evitiamo la chiusura totale di tutto perché questo determinerà col trascorrere del tempo un degrado sempre maggiore quindi se oggi ci vogliono 100 domani ce ne vorranno 1000 e via discorrente ma su questo i danni della chiusura saranno maggiori delle perdite che avrebbe prodotto che era dovuto al fatto che la regione pagava i dipendenti in comando presso la SPA assolutamente maggiore cioè 2 milioni all'anno se li calcoliamo dal 2015 ad oggi oggi abbiamo un degrado che è di decine di milioni di euro non è del personale diciamo che è danneggiato perché il personale veniva con i sei mesi veniva retribuito regolarmente si lo so ma veniva retribuito dalla regione utile rispetto al rosso d'andioniano ma veniva retribuito dalla regione ed era questo quello che la SPA proponeva come disavanzo ma evidentemente oggi perché questo personale quello che non è distaccato non è lo stesso pagato alla regione siciliana è distaccato verso gli uffici statali ma è pagato ugualmente alla regione siciliana quindi cosa ne ha ricavato la regione ecco su che cosa io fondo il fatto che la regione siciliana non ha mai valutato correttamente che cosa sono adeguatamente che cosa sono le termine di Sciacca e io vorrei invitare il sindaco a dire al presidente Schifani e all'assessore Falcone come prima cosa prima di guardare il carteggio di venire a Sciacca e di venire a vedere il presidente quello con cui io mi confrontai al tempo non è mai venuto a Sciacca a guardare le termine non le ha mai viste non le ha mai viste quella dirigente che allora andò in assemblea dei soci e deliberò quella chiusura nonostante conosca Sciacca secondo me le termine di Sciacca non le conosce bisognava chiuderle prima disse all'epoca esatto allora se oggi dobbiamo aprire una fase nuova e chiudo naturalmente il sindaco non ha bisogno dei miei suggerimenti ma anche sulla base dell'esperienza vissuta mi permetto di dire queste cose se oggi dobbiamo aprire una fase nuova la regione siciliana non può essere esclusa da questo ragionamento intanto perché è proprietaria dei beni e quindi anche se noi interlocuiamo con Cassa Depositi e Prestiti però la regione è proprietaria dei beni primo secondo giustamente come dice il sindaco si deve far carico di un minimo di attenzione a questo patrimonio perché se anche riprendiamo Cassa Depositi e Prestiti non è che apriamo le termine domani mattina quindi ci saranno altri anni di attesa in questi anni continuerà il degrado e quindi continuerà il potenziamento economico allora quindi facciamoli venire facciamogli vedere la situazione e poi io allerterei i parlamentari del territorio quelli che ci sono per presentare un emendamento in finanziaria e vedere distanziare delle risorse che possano in qualche modo evitare ulteriore degrado ma il finanziamento del governo musumeci per la tolettatura abbiamo notizie di questo finanziamento non ce ne sono giunte aveva annunciato un milione e mezzo su questo c'è anche diciamo da parte dell'amministrazione perché i soldi già sono stati consegnati per eventuali ammaloramenti che ci possano essere quindi interventi diciamo di valutare scusate se mi inserisco di valutare se possono essere utili per investirli solo sulla piscina perché se fate se si fa il parco e si fa la piscina si dà alla città nel momento in cui si dovessero aprire la speranza che qualcosa si può fare e anche la voglia di imbattersi perché le cose possano cambiare cioè sarebbe una sorta di come dire di stimolo ai cittadini a partecipare a tutto quello che serve la considerazione sulle cose lasciamo adesso lui poi aggiungerei anche il bar anche il caffè c'è fai il parco fai il bar e hai le piscine vogliamo dare un consiglio al sindaco cosa deve chiedere io se devo dare un consiglio al sindaco l'unico perché si è detto che sono della regione le terme tutte le cose che vanno dico che il sindaco oggi ha intanto spingere la mano non mettere l'unico intanto spingere perché questo possa diciamo realizzarsi e poi cointeressare tutti i sindaci del territorio a fare in modo che questo comincia a diventare come in tutto ormai i comuni si devono riunire in tutto per poter ottenere dei risultati non è possibile che ancora il finanziamento di 300 mila euro 400 mila euro avere la disponibilità del territorio a battersi insieme e soprattutto sfruttare questa occasione perché è quella che al momento abbiamo non sto dicendo che dopo non si deve come giustamente ha detto Caterina che dopo si deve pensare eventualmente all'alternativa sull'alternativa però ho grossi dubbi perché dobbiamo essere realisti noi conosciamo il bilancio della regione noi sappiamo che la regione ha dovuto fare il ricorso a Roma per fare in modo di stare in equilibrio per via degli 800 milioni che la Corte dei Conti gli ha dilazionato in dieci anni pensare di ristrutturare alcune di queste strutture per poterle affidare a privati col privato ci devi mettere d'accordo gli devi dare almeno 10 milioni per poter fare in modo che qualcosa si possa recuperare perché una volta erano 10 milioni io vorrei capire come lo stabilimento si possa rimettere visto quello che è successo in questi sei anni sette anni che non sono state aperte per cui pensare che la regione sia per ignoranza sia per indolenza sia perché non capiscono cosa vuol dire creare attività produttive dei territori e quindi aumentare il bene dei cittadini della Sicilia questi che non capiscono tutto questo in pratica non penseranno mai di prendere 12-13 milioni da investire in questi beni per poi poterli eventualmente affidare a privati dice bene quando dice che mangia ecco io la lettera ce l'ho pure quella di Roccoforte che fece la richiesta ufficiale di poter la risposta fu dobbiamo fare il bando ma oggi io vorrei capire se Roccoforte è ancora disposto a prendersi le terme con lo stabilimento così come mai per come si sono ridotte adesso oggi non sono più in condizione di poter essere diciamo valutate vediamo l'avvocata Sant'Angelo certo mi ha molto come dire stranita le valutazioni in merito al fatto che alla regione ci sono persone che non capiscono niente perché evidentemente non sappiamo scegliere se portiamo al governo della regione persone che non sono in grado di capire ciò che è bene per il territorio non solo siciliano perché le nostre terme avrebbero una risonanza a livello internazionale non ci scordiamo il valore delle nostre acque quali sono uniche al mondo neanche a Cireale ha le acque come le nostre allora già comincio a pensare male ci sono delle proprietà che credo siano uniche in Europa adesso io parlo le stufe mi basso sulle cose che qui sto parlando delle acque non parliamo delle stufe che è un benaltro patrimonio del quale si dovrebbe approfittare io ricordo il periodo in cui si facevano le stufe c'erano i massaggi là sopra il benessere dal punto di vista sanitario senza dire dal punto di vista economico il rilancio delle acque termali noi andiamo a comprare l'acqua di come si chiama di Sirmione quando a Sciacca avremmo cose di gran lunga superiore formare i famosi panieri da lanciare sul mercato oggi a mezzo web noi avremmo ritorni economici ma lei ancora ha fiducia su una prospettiva diversa da questa del bando di SGR certo che io ce l'ho la fiducia perché innanzitutto il punto fondamentale è un altro inquadrare le problematiche non c'è solo la questione terme accanto alle terme dobbiamo anche andare a considerare la questione acque termali io ricordo che avevamo dieci acque termali e ce ne sono rimaste cinque operative delle cinque no prima erano tre fino a qualche anno fa ora sono diventate che non sono più usufruibili quattro ce ne rimane una sola che è quella delle acque sulfure e perché quelle quattro non sono più è la competenza dell'ente minerario credo ente minerale sulla questione se ricordate ultimamente ci fu la vicenda della normativa Bolkestein c'è stato uno scontro a livello di regione intervenuto a feder terme si è dovuto spiegare che le nostre acque le nostre concessioni non rientrano in quella normativa perché la normativa Bolkestein fu del 2006 a livello europeo la regione e l'Italia la regione nostra con una legge che è del 2010 le termine sono un rompicato posso chiederle una opinione che è quella che chiederò agli altri comunque questa della Bolkestein è una cosa importante è molto importante perché se non si associano i due canali perché ora per riattivare le acque che abbiamo dobbiamo andare a rifare tutto il percorso mi scusi questo passaggio è importante in effetti per un motivo perché anche se dovesse arrivare il privato domani le acque sono comunque dell'ente minerale non potranno essere non saranno sicuramente proprietà del privato e di lì le pensi che per poterle usare si debbono riottenere tutte le autorizzazioni ministeriali posso chiederle adesso partendo da lei poi le chiederò agli altri un'opinione sociale questa città si piange addosso i commenti sui social sono indicativi dell'anima barricadiera in parte litigiosa comunque sempre critica e fine a se stessa in qualche caso questa città perché guarda questa questione delle terme con questa indifferenza perché diciamoci la verità a parte voi che siete qui seduti e tante altre persone illuminate non penso che la maggioranza sia così indolente però quelli che si fanno sentire sono così sono indolenti perché questa città guarda con questa indifferenza alle terme perché sciacca mi dispiace doverlo dire i suoi abitanti accettano passivamente quello che succede poi ci sono anche altri risvolti perché chi lavorava alle terme ora è altrove non deve più faticare come in quel modo vorrei dire che ci sono personaggi che lavorano e che faticano molto meno ma prendono ugualmente il stipendio quindi non hanno neanche interesse a che la cosa venga come dire riattivata anche se ci sono altri che ci tengono perché noi avevamo personale specializzato però non riesce a smuoverla sciacca e non capisco perché c'è come fosse una cappa abbiamo fatto di tutto abbiamo fatto l'inferno noi però poi facciamo i complimenti a Montevago perché c'ha la città termale è da fare i complimenti perché loro che hanno rispetto a noi eppure hanno le acque piglie e le fanno funzionare sono state danneggiate sono privato ecco sono privato certo teniamo conto di questo e il problema Montevago grande rispetto sto dicendo chi parla male di sciacca perché noi sciacchietani dobbiamo parlare male di sciacca poi però facciamo i complimenti agli altri questo è quello che volevo far notare ma qua più che complimenti è una presa d'atto se noi pensiamo che queste piccole terme si sono rialzate dopo l'alluvione che c'è stata ultimamente hanno subito gravi danni e poi si sono ripresi ma è vero che voi associazioni che vi siete occupate alle temi lo chiedo pure a Zammut adesso state cercando di condividere un percorso adesso di non andare più in ordine spasso allora io siccome ora abbiamo rinnovato le cariche sociali sono stata come detto inizialmente eletta presidente annunciare quando ci fu questa elezione che avevo interesse e intenzione di convogliare tutte le forze civiche presenti sul territorio per fare un'azione mirata perché dappertutto ci sono persone che conoscono i fatti della città e mi sono proposta e addirittura si era fatto una forma di convenzione non fu mi dispiace dirlo franco ma debbo dirlo non fu come dire autorizzata non voglio dire altro diciamo che non è andata a buon fine questo connubio che sarebbe stato veramente importante quando parlavo di città di visa è un po' lo dico affettosamente per voi due che siete qua è un po' plasticamente rappresentata dal fatto che ci siete due associazioni civiche è una che era civica adesso è politica perché c'è un consigliere comunale cioè che te mi rinasci qual è la versione dei fatti poi sull'aspetto sociologico mi interessa molto no è quello più importante no no questo è importante questo è il primario sull'aspetto sociologico perché se io ti invito al di là del fatto politico perché non mi riguarda il fatto politico ci siamo è sciacca che si deve dire facciamolo rispondo allora il comitato il comitato della Sant'Angelo che lavora non è un comitato è un'associazione è un'associazione politica che lavora sulla vicenda molto attivamente e che produce le sue idee si batte è stata con noi sui bandi è stata con noi su tutte le cose questo è diciamo un modo di incontrarci potrà venire sempre ma noi abbiamo all'interno del nostro comitato abbiamo associazioni con i comitati potrei citarne alcune ma diciamo non credo sia il caso ma sono tantissime sono tante io non posso diciamo avendo fatto un comitato come dire di cittadini di associazioni vere eccetera oggi andare a fare un accordo con chi posso camminare insieme sicuramente ma non da un comitato politico culturale politico identificato noi siamo un comitato che raggruppa diversi comitati io mi sono dovuto spogliare dell'immagine di segretario della camera del lavoro di sciacca per poterlo fare come coordinatore non ho potuto fare diciamo la cgl organizza per capirci abbiamo capito quindi questo è il te poi io mi sono riunito su questo non è vero che diciamo l'ho deciso anche perché c'è qualche tanti che pensano che sia un altro che decide però dico io ho dovuto fare la riunione e su quella riunione lo dico posso portare poi quando sarà in privato i nomi e i cognomi hanno detto tutti di no e quindi dice io dovevo essere d'accordo dovevo fare questo è il fatto sociologico è evidente che cosa succede a Sciarca l'intervento di Zambuto mi interessa sull'aspetto sociale sull'aspetto sociale io posso fare l'esempio della sanità quando quattro cucchi ci trovavamo sempre davanti alla casella per la causa sanità ed eravamo sempre uguali e io quando mi vedevo mi guardavo pensavo a quanto fosse ridicolo cioè tutta la città che vedeva batterci che ci vedeva battere per la sanità ed eravamo sempre gli stessi 7-8 mai che si incrementasse questo numero perché secondo me c'è scarsissimo dialogo diretto con la città il dialogo sulle questioni e i temi della città si discutono solo al bar perché la politica del territorio diciamo la verità la politica nostra che non è quella di Menfi che non è quella di Ribera che non è quella di altri comuni che trovano coesione nelle battaglie comuni e riescono a stare insieme da noi si pensa che sempre o l'interesse di qualcuno o che non abbiamo nulla da risolvere o che è inutile diciamo battersi comunque c'è un'assoluta indifferenza non so chi l'ha detto prima di me esatto Caterina perché si è espressa lei c'è un'assoluta indifferenza del cittadino che piuttosto che comprendere che le cose di cui diciamo che si intende portare avanti è la classe politica scala perché voglio dire quando tu hai i consiglieri cose che si battono sempre picchi cio pittuso picchi c'è la cosa eccetera e non fanno mai discorsi di ampio respiro che non parlano alla città per sensibilizzarli sulle cose reali il lavoro che manco se ne parla ne parliamo in un'altra puntata e allora voglio dire voglio dire noi abbiamo una grave responsabilità io come segretario della CGL sono stato costretto a prendere tre punti in cui credo acqua sanità e terne e mi sto occupando di queste cose in maniera come dire anche approfondendo ma non riesco a trasmetterlo i temi sono avvocato De Paolo il tema Asciacca è soggettivo se la cosa mi interessa allora me ne occupo è così abbiamo questo tipo di individualismo molte persone scoprono che all'ospedale le cose non funzionano se loro ci sono andate a finire perché se ascoltano un altro che gli dice che le cose non funzionano non gli interessa e questo probabilmente anche magari le terme interessavano a chi ci lavorava poi qualcuno diciamolo qualcuno ha anche fatto diventare le terme un po' una specie di segreteria politica diciamoci la verità non dimentichiamoci le cose quindi magari più di qualcuno adesso io vorrei vorrei anche spezzare una lancia nei confronti di qualcuno che dice ma io perché mi devo interessare se qualcuno ci ha fatto soltanto politica però di fatto torniamo all'impostazione sociale il cittadino è così Asciacca se non prova le cose su di sé se non gli interessa anche quando voglio sempre citare il post dell'assessore Gulotta che dice abbiamo asfaltato via via Sciascia faccio un nome come un altro c'è quello che commenta ma qui il rione 4 novembre come che non venite perché il tema si riconduce sempre è chiaro che se è così sarà un limite culturale io a questo non lo posso sapere però di fatto si riconduce sempre a questo qual è la sua opinione? ma l'analisi sarebbe davvero complessa da compiere anche perché io non sono un sociologo assolutamente e quindi non lo siamo nessuno di noi è complicato comprendere alcuni meccanismi comportamentali e non mi sento neanche di condannare i miei concittadini perché ci saranno delle ragioni sottostanti argomento per argomento perché se noi ci fermiamo alla questione terme tu lo hai anticipato noi non dobbiamo dimenticare la storia assolutamente la storia delle terme di Sciacca a parte la fase iniziale quando i nostri concittadini sono stati protagonisti della loro nascita perché attraverso il famoso azionariato popolare hanno creato lo stabilimento non le terme perché le terme ce le ha dato il padre eterno il padre eterno e madre natura mentre invece gli aspetti immobiliari almeno quelli iniziali sono stati voluti dai nostri concittadini ma se noi escludiamo questa fase iniziale poi non ci dobbiamo dimenticare che per tanti anni le terme di Sciacca hanno funzionato come ente pubblico quindi era un'azienda regionale e aveva il meccanismo del bilancio a pareggio cioè che significa se io faccio 2 miliardi di euro l'anno di perdite mamma il regione me le copre e questo è successo per tanti anni inizialmente magari questi disavanzi non c'erano poi cominciarono ad esserci la fase quella della privatizzazione è stata gestita con errori pazzeschi nel corso del tempo errori pazzeschi questo secondo me la cittadinanza lo ha accolto non è che non lo ha accolto e soprattutto il protrarsi di questa situazione di stallo di difficoltà a venirne fuori un po' ha stancato la pubblica opinione io mi ricordo quando ci fu la famosa chiusura del marzo 2015 e dopo si organizzò un corteo di lavoratori ma anche invitando tutta la cittadinanza eravamo davvero in pochi Franco se lo ricorderà eravamo davvero in pochi quindi io più che analisi sociologica mi permetterei di fare un po' di ragione c'è esatto di fare di ogni questione una sua una sua storia e anche delle motivazioni sottostanti poi può anche essere vero quello che dice Franco Zammuto cioè sul profilo squisitamente politico del dibattito che si è avuto in questi anni ma anche qui il ragionamento sarebbe molto lungo perché complesso coinciderebbe con quello che è stata una conflittualità da un po' di tempo a questa parte da un po' di anni a questa parte della politica non solo cittadina ma anche della politica nazionale con questa profonda divisione tra centrodestra e centrosinistra per cui alla fine c'era sempre una parte che criticava e una parte che faceva il suo dovere però le terme le terme sono la nostra storia però le terme sono la nostra storia e quindi secondo me anche e soprattutto in virtù del fatto che sta partendo questa seconda fase in cui non ci sono più le rivendicazioni del passato perché fino a qualche tempo fa devo essere onesto ancora qualcuno si permetteva di dire che la responsabilità era del sottoscritto fino a qualche tempo fa anche in campagna elettorale recentemente quindi se noi usciamo fuori da queste rivendicazioni ed evitiamo di dire cose che non esistono né in cielo né in terra possiamo far partire una seconda fase in cui avviare un dibattito molto più produttivo ma perché non si spiegava nulla la responsabilità la davano a te questa è la cosa grave ma non è così franco perché io ho spiegato in più ho fatto conferenze stampa ho scritto un dossier il dossier è pubblico pubblicato sul sito del comune si ricorda che si doveva incatenare ma noi sappiamo perfettamente che non sarebbe servito nulla e anche se si fosse incatenato non sarebbe successo niente ci siamo incatenati allora apriamo questa seconda fase provando a coinvolgere la cittadinanza senza rivendicazioni sindaco termine perché poi le termine sono la nostra storia e spesso io per chi è appassionato di cinema la scena finale del dottor stranamore ve la ricordate quando quello che deve sganciare la bomba atomica non ci riesce la sgancia con lui sopra e lui esulta e è contento che è riuscita a sganciare la bomba atomica ma ovviamente ecco questo un po' la città certe volte mi fa pensare voglio ricordare ancora il famoso referendum per intitolare Sciacca Sciacca Terme che in buona sostanza lì è stata proprio la rappresentazione plastica del disinteresse dell'indolenza della città con grande rispetto per chi invece quel giorno andò a votare allora qual è la sua riflessione sul piano sociale e l'ultima parola a lei anche su cosa dobbiamo aspettarci ma io penso che la disillusione della gente ci stia tutta nel senso che al di là del del periodo che intercorre dal 2015 ad arrivare ad oggi in cui sono state chiuse comunque le Terme già da anni vivevano periodi che facevano presagire insomma anche un esito del genere e quindi c'è stato via via un percorso che ha portato fino alla chiusura e sicuramente non si può addebitare ai cittadini questa chiusura ma sicuramente va addebitato alla politica propriamente intesa come tutti quelli che hanno avuto dei ruoli e che potevano fare qualcosa dico la famosa burocrazia di cui si parlava prima e anche chi ha gestito chiaramente le Terme in tutti questi anni perché è bene dire che qualcuno le ha gestite queste Terme non è che facevano perdite perché c'era il tubo dell'acqua che perdeva facevano perdite perché probabilmente non c'era una gestione che era consona a quello che era il patrimonio quindi oggi prendersela con i cittadini potrebbe essere veramente una beffa per tutta la città io penso che la città sia disillusa perché non crede che questa battaglia si possa vincere è bene dirla questa cosa la città pensa questo io lo credo l'ho riscontrato in campagna elettorale lo continuo a riscontrare quindi io penso che dobbiamo dare un motivo per lottare alla città e questo significa che dobbiamo iniziare a vincere qualche battaglia e poi ci ritroveremo tutta la città dietro ma in questa fase è giusto che la politica tiri il carretto per come si suol dire anche perché ognuno per la sua parte chi è promotore di un'associazione chi esercita ha un ruolo politico chi comunque è in un organismo e può fare qualcosa è giusto che faccia qualcosa poi sono d'accordo sul fatto che chiaramente va fatta una battaglia tutti insieme e voglio cogliere una battuta fatta da Franco Zammuto forse è rato il momento di convolgere tutto il territorio e non considerare questa come una partita da giocare soltanto a sciacca perché io credo che tante realtà limitrofe hanno perso di interesse nel momento in cui le terme di sciacca sono state chiuse quindi immagino una famiglia che viene a fare due settimane a novembre a sciacca per le terme probabilmente va anche a Caltabellotta va a Sambuca quindi è chiaro che se dobbiamo vedere una partita di comunità per me la comunità va allargata non soltanto a sciacca ma a tutto il territorio allora io vi ringrazio avremmo dovuto parlare di tante altre cose però è chiaro che il tempo che abbiamo a disposizione è quello che è ricordiamo che risale al 1999 la norma che stabilì che mamma regione non poteva più fare l'imprenditrice quindi manifestò la propria incapacità e quindi da quel momento in poi doveva trovarsi un imprenditore privato che acquisisse ancorché in concessione il patrimonio termale cosa che non è poi avvenuta ricordiamo che in mezzo c'è stata una scandalosa istituzione di una società per azioni poi andata in liquidazione una liquidazione che peraltro è in atto e come paradossi dei paradossi ne voglio citare due la coesistenza per un bel po' di tempo tra la SPA e la vecchia azienda delle terme è il più clamoroso di tutti la regione che si ricomprò le piscine Molinelli per permettere alla SPA l'equitazione di pagare debiti potremmo dire tantissime altre cose solo le piscine anche il ritorno dell'usufrutto in piena proprietà è una storia lunga è una storia lunga non vorrei essere stato frainteso rispetto all'approccio che ha la città ma la città non deve dimenticare che le terme fanno parte della sua storia le terme di Sciacca come struttura stabilimento sono una cosa le terme di Sciacca come storia della città di Sciacca sono un'altra cosa non possiamo dimenticarle invece purtroppo credo che questo si dimentichi tutti i giorni ringrazio vivamente gli ospiti che sono stati questa settimana nei nostri studi l'appuntamento con Vespera alla prossima settimana